Sarallo Famosi, il Drive Time di Radio Roma, con Lele Sarallo e Lori. Siamo proprio noi, Radio Roma, Sarallo Famosi, questo è il Drive Time, noi vi accompagniamo dalle 16 alle 19, quindi fra una mezz'oretta più o meno noi vi salutiamo, ma ci sono sempre delle belle sorprese qui, così improvvise. Oggi, in questo momento, alle 18 e 29, abbiamo uno studio tutto al femminile, loro sono bellissime e ve le voglio presentare, sono, non posso presentarle insieme perché non fanno parte né di finale, abbiamo qui Chiara e Flavia, di Miss Reginetta d'Italia, alla mia destra, e abbiamo, la mia sinistra, la talent Stefania. Buon pomeriggio, come stai Steffi? Buon pomeriggio Lori, sempre un piacere venire qui. Anche per noi è sempre un piacere averti qui. Come sei, splendente, come sorrisi. Ti abbiamo visto, questa volta ti abbiamo accontentato, ti abbiamo messo dall'altra parte, così almeno non c'era questo dislivello, non avevi questa angoscia. Allora, noi siamo qui, alla nostra destra, come abbiamo già annunciato, abbiamo Chiara e Flavia. Flavia è la Miss Reginetta d'Italia 2022, ed eccola qui. Guarda, avvicinati perché altrimenti ogni volta ci sgridano dalla regia che non si sente bene. Flavia, tu sei la, hai già vinto. Sì, ho vinto l'edizione 2022 Miss Reginetta d'Italia, è stata un'esperienza splendida. È stata un'esperienza splendida e la rifarei, come già ho detto, altre mille volte. Un po' per le persone che ho conosciuto in questo ambito, sia tutto lo staff che le ragazze. Oh, che bello. Ma poi sei giovanissima, hai 18 anni. Sì, ho 18 anni. 18 anni, io ragazzi, mi ricordo, è inutile, continuerò a dirlo sempre, Steffi, non so se anche tu eri così, ma io non ero così a 18 anni. No, neanch'io. Né a 18 né a 16, io veramente non ho parole, siete bellissime. Io ti faccio un attimo al volo una domanda prima di presentare dopo il break della pubblicità, l'altra ragazza che affianca a te, anche lei stupenda. Cosa hai provato quando hai vinto? Cioè, cosa hai sentito? Allora, io devo dire... Soppevi già che fossi tu alla prima. Diciamo che io sono arrivata lì, che volevo vincere a tutti i costi, quindi ci speravo tantissimo. Anche se una volta arrivata lì non ci ho accreditato per così tanto, perché mi sono guardata un po' intorno e ho detto, boh, sarà il mio anno, non so. E quindi niente, poi quando abbiamo fatto la finale, l'ultimo giorno, diciamo che è stata un'emozione fortissima, non me l'aspettavo, non ci ho capito più niente. Infatti non... La determinazione. Sì, esatto. Facciamo una cosa, ce ne andiamo in break e ci vediamo dopo la pubblicità su Radio Roma. Vedez, viola, questo disco stupendo. Oggi sono in studio, nei nostri studio di Radio Roma, con delle bellissime ragazze. Alla mia a destra, anche a sinistra, Stefania, ti classifico come me, sei una bellissima donna. Abbiamo intervistato poco fa Flavia, che è la vincitrice di Miss Reginetta d'Italia del 2022. A fianco a lei c'è Chiara. Buonasera. Non aver paura, Chiara, non ti mangio. Te lo giuro che non ti mangio. Chiara, più piccolina, 16 anni, hai vinto la terza, giusto, correggimi. La terza selezione, sì. La terza selezione. Miss Reginetta d'Italia 2023, quindi. Che si è svolta a Nero Lab. Perfetto. Come ti sei sentita? Ti aspettavi questa vittoria? Oppure sei arrivata lì e hai detto, oddio, com'è possibile? No, diciamo che questa vittoria non me l'aspettavo, puntavo alle fasce, ma non mi aspettavo di arrivare al primo posto. Infatti sono stata contentissima, mi sono emozionata, però mi sono anche divertita, anche con le altre ragazze. Abbiamo fatto subito un gruppo. Quindi c'è stata un'intesa, insomma. Non siete state... Sai, io mi immagino questi festival, no, li chiamiamo così, tutti molto competitivi, le ragazze. No, è tutto molto... Chi era? Stefania? Sì, sì, è arrivato. No, perché sai... No, devo dire che fanno amicizia, cioè si crea un bel clima, anche se si conoscono da poco. E entrano subito... No, perché sai, io vedo sempre i film, lo sgambetto, la cosa. Poi è mai successo in qualche selezione? Forse in nazionale si succede. Sì, più alla nazionale sicuramente. Sì, mi ricordo Paola che mi ha spinto dalle scale. No, vabbè, però comunque alle regionali un po' a meno, perché comunque stanno tutte nella stessa regione, di Roma, comunque ci capiamo un po' di più, però alle nazionali quando stai a contatto con tantissime ragazze di varie regioni è un attimino più complicato, magari capisci male la parola, quella comincia a... non lo so, pensano male... Qual è la regione... Basta, non me ne frego un cacchio di voi, basta, adesso non parlo più con nessuno. Qual è la regione che ti ha dato più fastidio nel parlare? Magari una ragazza veniva là, ti parlava, non lo so, in una maniera particolare, strana, che ti ha dato fastidio? Beh, allora... Queste domande, che mi fa questa? Allora, io ho origini napoletane perché mio padre è di Napoli, però diciamo che le ragazze napoletane erano abbastanza conflittuali. Tendevano sempre un po' a lanciare la pietra, un po' a cercare la lite... Queste cattivelle, ma ti pare a te? E vabbè ragazze, comunque a me fa piacere che rimanete un pochino qua con noi così, Stefania ci racconti un attimo quale saranno le prossime tappe, va bene? Intanto a me c'è. Intanto ci ascoltiamo un altro disco e rimanete su Radio Roma con noi. Chissà perché mi fai queste entrate così, Lucas, mi fai prendere un colpo ogni volta. Vi ricordo che potete guardarci al canale 15 del Digitale Terrestre, se siete in auto, ovunque voi siate, potete anche ascoltarci in FM e potete vedere in tv queste bellissime ragazze che sono al mio fianco, destra e sinistra, altrimenti la nostra talent qui Stefania tra un po' mi darà una cuffia in testa. Io non voglio assolutamente... Oggi è bello perché siamo tutte femmine, secondo me Lele, saranno, dopo ci chiamerà e si arrabbierà perché dirà, siete stati contenti di stare senza di me? Beh, ti dirò, non è che... Guarda, ti devo dire, ti devo dire, vi devo dire, ti devo dire, bravo, ho fatto una domanda al blog a queste... Ti piace, eh? Grazie, la regia, qui vedono solo, io vedo solo maschi, ragazze, vi giuro, vedo solo uomini, in tutto lo studio ci sono solo uomini, c'è anche la mamma che ci riprende, io faccio una domanda a tutte le persone che sono qui in studio perché faccio una piccola rubrica che è Astrolori e faccio questa domanda a tutti, che segno zodiacale siete? Astrolori Dai, beh, Flavia, hai detto che sei del segno? Sì, sono pesci Pesci, quindi, guarda, immaginavo perché tu dici, ma te l'ho detto prima, no, però il pesci, il segno dei pesci come donna fa, è molto, come si dice, passami il termine, atteggiona, nel senso che gli piace essere bella, sempre perfetta, è vero, ti ritrovi? Vero È vero, è vero Chiara? Io sono leone ascendente vergine È bellissimo perché lei, ho fatto la domanda e ti ha risposto diretta con l'ascendente, io sono leone ascendente vergine, per far capire a tutti quanto lei è precisa, sono d'accordo, brava, bravissima. Steffi, a te non te lo chiedo perché te l'avremmo chiesto già 70.000 volte, però vuoi ricordare gli appuntamenti che ci saranno con Miss Reginetta d'Italia? Sì, intanto nell'immediato, quindi fra due giorni, 26, quindi sabato 26, siamo al Borgo per festeggiare appunto Miss Reginetta d'Italia 2022, con una sfilata di moda, quindi con vari brand, c'è gli spose, quindi indosseranno queste ragazze, ci sarà anche appunto Chiara in studio, che è una ragazza in studio, e quindi Sì, tutte le finaliste regionali dell'anno scorso e qualche finalista regionale di quest'anno, quindi sfileranno solo moda, e l'Ele Sarallo che non può mancare perché lui E lui, allora l'Ele Sarallo farà il presentatore, giusto? No, farà la cena spettacolo pre-sfilata Speaker Dinner Show, chiamiamolo così, e poi abbiamo il nostro caro Lucas, che è anche il registro del nostro programma Drive Time, Sarallo Famosi, e sarà lì ad aglietarvi con la sua musica, vero? Che bravo ragazzo No, comunque bene, quindi il 26 novembre Vi ricordiamo il 26 novembre, non mancate, ora ce ne andiamo un attimo in break, però rimanete qua ragazze, perché mi fa piacere, mi sentivo sola sola oggi, rimanete con noi Drive Time, Sarallo Famosi di Radio Roma Duke Dumont, questa era The Power, l'house chart di oggi, 24 novembre, Radio Roma, Drive Time di Sarallo Famosi, siamo giunti al termine, sono qui in studio con queste bellissime ragazze, quindi io direi che possiamo farlo anche insieme Mi ricordo, con Stefania, il 26 novembre, al Borgo di Ariccia, giusto? Al Borgo di Ariccia, si, a via Colli San Paolo 13 Ci sarà la festa Festa per il Ministro di Girete d'Italia e ovviamente l'evento si chiama Queen Luxury, scusate, Defile Ok, Queen Luxury Defile, mi raccomando il 26 novembre Novembre è sabato Noi, allora, siamo arrivati alla fine di questo ignobile programma, ragazzi, e quindi io direi di farlo insieme, un bel ciao Ci vediamo lunedì dalle 16 alle 19 con il Drive Time di Radio Roma Ciao! Sarallo Famosi, il Drive Time di Radio Roma Con Lele Sarallo e Lori Da lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 Canale 15 del Digitale Terrestre